E ancora sto filmando. Cazzo, se viene ed è favoloso. Ma alla grande. Ora sto filmando, perché se vedi il numero va avanti e indietro, va avanti, poi si può usare anche lo zoom mentre tu filmi, va dai bellezza. Vedo tutto, stai attento perché non fai gazzare, perché ora tu sei tutto registrato, no, dagli la via, tanto non ti sto facendo la fotografia, dagli pure la via subito, vai, vai, va tranquillo. Facendo le scaglie, vai, vai, va dai bellezza, buono, buono, che filmato favola, vai, dagli la via per benino, vai, vai, e rende più così, eh. Ora ti fa un primo piano sorridente. Anche senza la canna, con la canna rotta. Anche senza la canna rotta. Va dai, sto filmando, eh. Purtroppo questo rotolino si consuma tutto noi. E come si può fare? a me mi calperebbe decorato dai sapere pescare io penso su un pezzo di pane eh davvero me mi ha con la tua ragione se a sciopalle non va bene quelle vie di altri sì molto bella bella è film eh questo lì ci puoi poi la puoi fai fai dagli pure la via ti sto riprendendo e sei cazzo è andata vai esulta vai via ahahah dai devi mettere dentro è quella è scarcamola va è una cosa così affavorosa aspettimi cosa oggi si prendono sinceramente ed ecco corradino con la canna mia guarda che c'è e che piotto bello è 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 bellissimo bellissimo troppo facile però con la canna io te lo devo dire ti ho ripreso tutto eh bella dio buono madonna e chebbia puttana qui viene una ripresa qui viene una ripresa di che le aspettavano eh per un attimo solo bella dio buono bella 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 cazzo eh 55 poi poi vi stavamo perdono puttana bella 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 beppi eh eh si è rotta beh la